Il Comitato Acqua Pubblica denuncia nuovi aumenti nella bolletta dell'acqua, da più 34 euro per chi consuma 90 metri cubi all'anno fino ai 122 euro di aumento per chi arriva a un consumo di 250 metri cubi. Si tratta, dice il Comitato, di una ristrutturazione tariffaria con cui la società di gestione, cioè nuove acque, andrà a calcolare i consumi di acqua a partire dalla prossima bolletta che arriverà agli utenti, con effetti però retroattivi a partire dal 1 gennaio. Non si tratta di una modifica della struttura tariffaria che la rende finalmente equa, in modo cioè che prezzi e scaglioni di consumo tengano conto del numero dei componenti nucleofamiliari e delle utenze domestiche residenti. Secondo il Comitato Acqua Pubblica si tratta di tutta un'altra cosa. Nuove acque, continua ancora il Comitato, è riuscita a far sì che i suoi sprovveduti soci di parte pubblica, cioè i comuni, abbiano scambiato lucciole per lanterne, favoriti in questo dal direttore generale dell'autorità idrica toscana, che evidentemente sa bene assolvere al ruolo di facilitatore del gestore. L'ideone, partorita dall'accoppiata nuove acque e ait, è denominata modifica alla struttura dei corrispettivi, che tradotto, secondo il Comitato, significa mettere mano all'articolazione tariffaria in vigore nel 2015 per cambiare il prezzo dell'acqua con modifica degli scaglioni di consumo, le tariffe per lo scarico in fogna, quelle per la depurazione e l'importo della quota fissa. Il 4 dicembre scorso, sindaci e assessori presenti alla riunione hanno fatto propria la proposta e 5 di loro, neanche 10 giorni dopo, l'hanno portata in assemblea regionale ait, ottenendone l'approvazione, forse senza neanche rendersi conto di aver così avallato rincari delle bollette per le utenze domestiche residenti che dal 1 gennaio 2006 aumentano anche del 23%.